Sky Cinema Family presenta i grandi film di Disney Cinemagic. Streghe, fantasmi, mostri. Non vi fanno paura? Dite, davvero? Allora non potete perdere la speciale maratona di film da brividi. E scommetto che non tremerete affatto. Disney Cinemagic presenta speciale Halloween. Sabato 28 dalle 15.10 e domenica 29 dalle 10 su Sky Cinema Family. Grazie.